Carissime, sono Adele Gabriella del Baule della Nonna e questo è il mio negozio artigianale. Oggi, come vi avevo promesso, ricicliamo le camicie da notte della nonna. Allora, come potete ben vedere, io qua c'ho un bel mucchio perché mio cugino me le ha regalate quando morì la mia zia prediletta, zia Gina, e me le portò. Tutte le cose che stavano a casa sua, della nonna, di mia nonna, di mia zia, le ha portate a me perché sapeva che le avrei sapute tenere. Infatti io, come me le ha date, l'ho lavate, stirate, l'ho messe dentro la mia cassa panca in attesa che mi fosse venuta qualche idea. Ho pensato adesso le regalo alle ragazze, alle nuore, alle nipoti, eccetera. Poi ho detto, ma tanto queste chi se le mette così, no? Adesso ve le faccio vedere. Questi sono di mia nonna Olga. Ogni volta che penso a lei rido, sorrido perché è stata sempre una donna eccezionale, simpaticissima, una grande lavoratrice perché lei si era inventata un lavoro. Il marito era partito, mio nonno era andato in Argentina a trovare fortuna ed era rimasta con queste tre figlie qui da sola e per sbarcare il lunario lei faceva i materassi con i suoi aghi da materasso. partiva a piedi e andava nelle campagne a fare i materassi alle spose e ci ha campato la famiglia, ci ha campato la famiglia con questo lavoro. Ma non solo con quello, lei sapeva cucire, sapeva ricamare, sapeva fare di tutto e l'ha trasmesso alle sue figlie, cioè mia madre e le zie, le quali poi le hanno tramandate questi saperi a noi, a noi nipoti. Ecco, queste sono le camicie da notte di nonna Olga, ve le faccio vedere. Chi ha queste camicie da notte? Non le dia via, non le date via, non le lanciate oppure le date a quattro soldi. Queste hanno oltre un valore affettivo perché sono pieni dei ricordi di tutta una vita, no? E anche un valore monetario. Perché? Guardate queste camicie da notte come sono state fatte. Tutte a mano, ragazze, con tutti questi sfilati, con tutte le centini intorno al collo. Guardate che per bloccarle e poi per non far rovinare il girocollo ci hanno rimesso tutti dei pezzettini di stoffa, no? Con un trapunto piccolissimo. Le maniche, guardate, le maniche tutte smerlate. Queste sono, questa qui è di mistolino. Sono tutte o di mistolino o di purolino. Vedete? E questo? E queste sono le sue iniziali. di nonna Olga. Nonna Olga. Io rido, lo sapete perché? Perché lei era un matirchiona. Veniva sempre a casa di mamma quando noi eravamo piccole e andava chiudendo i tubi dell'acqua, dell'elettricità. Ci spegneva la luce. Noi ci stavamo leggendo. Quando lei arrivava, magari stava a leggere un giallo qui e la tanghete, ti ritrovava il buio. Oddio! Che è successo? Ecco perché rido. E lei diceva che non era tirchia, ma oculata. Ok, questa ne è un'altra. Questo è tutto purolino. Si sente dalla cadenza, dalla cadenza e dalla stoffa. Vedete? C'ha il ricamino sulle maniche, quelle con le maniche. C'hanno sempre questi ricami. Questo è fatto semplice, con un punto pieno e con un buchettino. Ce ne sono diverse, più belle di queste. Questa qui è la classica estiva. Vedete? Sempre che... Loro amavano, da come ho potuto capire, almeno mia nonna, il punto inglese, cioè il punto inglese si taglia la stoffa e poi si fa un cordoncino fitto fitto. Vedete? Lei le ha fatti tutte così, con questi punti. Questa è a trapezio. Guardate. È fatta a trapezio, lo vedete? Estiva, la classica... Ma probabilmente questa non era una camicia da notte, ma una sottoveste che si metteva sotto gli abiti. Perché, vedete, è semplicissima. C'avevo pure i mutandoni, ma non l'ho portati perché magari poi... Eh? Non lo so se poteva andare bene o no. Questa è un'altra. Guardate. Sempre con questo punto inglese. E non è quest'altra. Vedete? Sempre con questi... Lei amava questo punto. Non tanto l'intaglio come questo punto. Questa penso che sia una sottoveste. Perché è uguale a quell'altra trapezio. Questa qui è bellissima. Io ho una di queste. Questa è di borolino. Questa qui molto probabilmente me la farò tingere. E vedete come facevano? Loro mettevano delle cugne, come le chiamavano loro, no? Ai lati della camicia da notte, per renderla ancora più larga. Quando si metteva questa camicia da notte, io me la ricordo, me la ricordo quando le indossava lei. In fondo facevano tutti questi cannelli. Perché probabilmente è stato tagliato in un modo... Guardate che meraviglia questa. C'ha i bottoncini sopra perché quando si allattava loro staccavano il bottoncino e allattavano i bambini, no? Eccoli. Ma allora, con questi ricordi, ma se passano da via delle camicie da notte di queste? Eh, non lo so, raga. Io parlo alle ragazze che disprezzano queste cose. Ma lo sapete perché? Cioè, non ci fanno caso. Perché noi non ne parliamo. Non ne parliamo ai nostri. Diamo sempre per scontato che non piacciono queste cose. Ma noi, quando parliamo con i nostri nipoti e con i nostri figli, perché anche i miei figli, ah, che ci faccio? Come che ci fai? Eh, ho spiegato quello che sto spiegando a voi. I ricordi che hanno queste cose. Ore e ore di lavoro di questa persona che le ha realizzate. No? Eh? E poi ce le ha tramandate. Noi, con questo... Noi ricordiamo, le ricordiamo appunto perché abbiamo qualcosa. di loro. Vabbè, adesso sto diventando troppo... Perciò il consiglio che vi do. Fategli capire, fate capire la bellezza di queste cose ai figli e ai nipoti. Fateli crescere con questa consapevolezza. Eh, vabbè. Eccola, questa è un'altra. Questa è un'altra ancora. Sempre con la manichetta, così. Guardate. Guardate sulla manica, Iden. Adesso ne scelgo una e la tramutiamo in un meraviglioso abito per casa, perché noi siamo delle creative. E quando creiamo, noi ci mettiamo questo abito per ricamare, per cucire, per dipingere, per fare di tutto. e ricordiamo, mettendocene la persona che l'ha realizzato. Ok? Vediamo. Questa è un'altra ancora. Adesso io vado a scegliere una con le maniche, perché con le maniche ci farò le tasche. Un attimo. Ok, ho scelto questa, perché ha tutta quanta la centinuccia intorno al collo, dietro c'ha le piegoline, sia dietro sia davanti, vedete? E c'ha questo punto inglese, che loro amavano tanto, ho scelto questa. E oltretutto ha le maniche, questo è un mistolino molto sottile, perché io adesso qui sopra ci andrò a fare dei lavori per renderla un po' più attuale. E c'ha anche sulla manica il ricamo più lo smerlo, perché con queste ci farò le tasche. Ok, allora io la misura la prendo addosso a me, e io non sono piccolo, ve lo sapete? Anzi, ho preso la camicia da notte più larga, più grossa. Loro non erano grandi, mia nonna sarà stata alta 1,60, io sono già 12 centimetri di più, perciò io parlo di loro, perché c'aveva pure la sorella, anzia Emma. E allora, ok, erano piccolini, 1,60, piccolini, insomma, il giusto per l'epoca. Io adesso vado a tagliare le maniche, allungando però la scollatura delle maniche, capite? Perché io voglio fare un abito, mi metto a sedere, se no mi sa che voi non mi vedete. Eccolo. Aspettate. Io la misuro così, addosso a me. Eh? Quello che dovete fare voi poi con il centimetro. Allora, io voglio creare un abito con questa cosa, un abito per fare i lavori in casa. Mia sorella al mercato mi ha comprato questa meravigliosa stoffa, guardate che meraviglia. Lei va in giro e quando trova delle belle stoffe, sa che a me piacciono. E qui si sposa bene, perché c'ha questi richiami di queste marcherite bianche, la camicia da notte bianca, il panna, cioè è una fantasia delicata, guardate. C'ha queste mazzi di rose con i nastri, penso che sia azzeccata per quello che andremo a fare. Perciò io faccio il sottoabito con questo, taglierò le maniche fino alla vita, no? Cioè, l'allargerò fino alla vita, così, di qua e di là. Aprendo la camicia da notte, perciò prima la apro, poi vado a scollare così. Aspettate che ora vi faccio vedere. Ok? Perciò me la posiziono qui. Io prendo addosso a me le misure, quello che dovete fare voi. Perché se io adesso mi metto giù, lo metto giù, sta camicia da notte, voi non sapete regolare, allora il mio punto vita è qui. Ci metto una spilla e poi la misuro, ok? Così dovete fare voi, perché o se la dovete fare per una nipote o per chi, cioè la prendete addosso a lei la misura. Perciò io adesso il giro lo devo allungare dalla spalla, lo devo allungare così, capite? Sia di qua che di là. E taglio le maniche. Vediamo, adesso vi dico quanto è lungo per il mio corpo. Aspettate un attimo, da sopra la spalla, io vado, questo è 40, 50 centimetri, ok? Perciò adesso io, questi 50 centimetri, mi vado un po' a ritagliare da qua sopra. E' così, aspettate, metto in doppio così la stoffa della camicia da notte e parto proprio, perché qui guardate, vedete, la spalletta è piccola, io non voglio, eh? Devo stare attenta, perciò da qui vado fino a giù, mettendo bene bene la mia stoffa, ok? E poi continuo ad aprirla. Vediamo, una cosa semplice, ecco. Avete capito? Adesso io non è che arco così, vado giù fino ai miei 50 centimetri. Per creare questo abito che è aperto davanti e di dietro, ecco, guardate, la camicia da notte di nonna è stata tagliata. Eccola. E logicamente adesso apro pure i laterali. Oh, come vedete qua, lei ci aveva messo i cugni, come diciamo noi, no? Allora, adesso devo cercare di... Però, perché lei, vedete come l'ha messo? Più sul di dietro che sul davanti. Non so qual era il sistema che adottavano, perché guardate, vedete? Sono tutte fatte così. E perché, se voi siete più esperte, ditemelo. Sono tutte fatte con questi cugni anche più grandi di questi. Probabilmente per avere un maggior movimento quando si dormiva. Troppo stretta, infatti, in fondo, loro non amavano, cioè non avevano i pigiami, no? Avevano queste camicie da notte. Ecco, io le sto tagliando da tutti e due i lati. Con la piega che è stata fatta da loro. Eccola. Praticamente è rimasta legata soltanto sulla spalla. Adesso io vado ulteriormente a ritagliarla. Perché? Perché io sopra, cioè, potremmo fare la gonna sopra, però voglio fare in un altro modo. Vabbè, adesso vi dico. Me la metto a sedesena, non vedete. L'ho tagliata, ok? Guardate. Adesso me la rimetto così. Ci vorrebbe uno che mi fa le riprese. Ok, questa è la mia camicia da notte. È stata tutta aperta. La vedete? Poi dopo andiamo ben a rimettere tutto quanto. Qual è il mio punto vita un po' sceso? Un po' sceso. Che io non la faccia a vita troppo arricciata e troppo. Questo deve essere un abito che noi mettiamo sopra gli abiti. Perciò a questo livello io taglio. Vediamo. Coincide proprio con quello che ho tagliato sullo scavo della manica. Perciò io qui vado a tagliare il corpetto, ok? Metto dritto. Voi stirate ben bene il tutto. Diamo una misurata col centimetro per vedere se tutto è in ordine. Dice come va? Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene e niente in ordine. 47 preciso dalla spalla. Allora adesso io vado a tagliare. Oh cavolo, non si è visto niente. Allora, l'ho piegata. Eccola. Vedete? L'ho piegata ai miei 50 centimetri. L'ho misurata così. 48. 48. E adesso taglio, diciamo, la parte superiore, dalla parte interiore della camicia alla notte. Abbiamo tolto le maniche, l'abbiamo aperta lateralmente e adesso via. Tagliamo il corpetto di questo grembiule. Così, a 48 centimetri. Per me, sul mio corpo. Oh, eccola. Tratran. E questa è la gonna. Però questa non ci serve per ora. Io che cosa ho fatto? Ho comprato questa stoffa. Me l'ha comprata mia sorella. Stupenda. E vado a fare un... Una sottogonna, diciamo. No? Allora, come potete vedere, la gonna è più grande. Vado a mettere... Ah, io l'ho tagliata. Ve lo dico subito. Che non voglio fare tanta arricciata, perché io sono bella rotonda. Perciò non eccedo con le arricciature. Voi potete farla più arricciata. Questa è 90. 90 per 70. Perché io l'ho fatta al polpaccio. Questo vestito deve essere importante. Deve essere bello. Com'è importante la camicia da notte. Ok? Tutta ricamata e tutta... Allora, perciò. Ho detto 70 di lunghezza. A me mi arriva il polpaccio. Voi ve la pigliate. Due pezzi ne ho fatti. E l'ho fatto il trapuntino di due centimetri di qua di là. Che va a finire a un centimetro. Adesso io vado a mettere tutto sul dritto questa stoffa. Così. Prima la piego a metà. Ok? Questa è la mia metà. No? La metà del corpetto è questo perché io c'ho... Vabbè, comunque misuriamo noi perché non diamo niente per scontato. Ok. Così. E questa è la metà della stoffa. E ce la piazziamo sul dritto. Sul dritto. Perché ora noi ci andiamo a coprire, a rimettere il vestito sopra. Cioè la camicia da notte ritagliata con le maniche per tasche. Eccola qui. Allora qui noi facciamo, sull'eccedenza che io c'ho, no? Ci faccio una piega per far riportare il tutto. Una piega che mi gira verso l'esterno. Perciò. Prima la metto qui. Considerando che io qui intorno la devo tutta rifinire. Che adesso andrò a rifinirla. Perciò la metto un po' più spostata. Perché qui ho bisogno dei miei centimetri. Di. Togliamo sto coso. Ci consideriamo il bordino che noi dobbiamo fare. Così. Anzi ce lo vado a fare subito. Ma intanto per farvi vedere. Quest'eccedenza noi ci facciamo. A una distanza. Che poi ce la gestiamo da sole. Eh? Perché come ci piace. Di lato però. Così. Non sulla pancia. Adesso ve lo dico. Ci gestiamo questa piega. Questo piegone. Sempre sul dritto. Così. Sia di qua. Così. Vedete? Che di là. Non prendiamo la misura. Questo. Lo togliamo. Ci consideriamo. La rifinitura che noi dobbiamo andare a fare di lato. Io ci faccio una rifiniturina con un trapuntino e basta. Non ci vado a mettere né sbieghi né merletti né niente. Perché non la voglio stravolgere più di tanto. Semplice. Così. Perché già è bella la camicia da notte. Lo sbieghino è troppo... Non mi piace. Un trapuntino bianco. Loro usavano la macchina da cucire. Perché come potete vedere. Ci sono i trapunti. Ci sono i trapunti. Per cucire la patta. Per cucire. Poi lo facevano come vi dico io. Vedete? Facevano i trapunti microscopici. A uno. Uno e mezzo. Questo l'hanno fatto. Per renderli proprio super raffinati. E facciamo il piegone da quest'altro lato. Prendiamo la misura. Tanto di qua. E tanto di là. Queste dodici. No. Andiamo più avanti. Idem. Facciamo la stessa cosa sul rovescio. Adesso io lo faccio. E poi. Lo vediamo. Prendiamo sempre la distanza. Dieci a sette. Dieci a sette. Va bene. E ci mettiamo una spilla. Così. Vedete? Lo facciamo sia sul davanti che sul di dietro. Di lato adesso vado a fare tutto un bordino. Di due centimetri. Per rifinire lo scollo delle maniche che noi abbiamo tagliato. Ok. Lo farò. Questo lavoro. Sia sul davanti che sul dietro della nostra camicia da notte. Nel nostro abitino. Ecco. Ecco. Vedete? Io ho montato sia sul davanti che sul dietro la stoffa sul dritto e ho rifinito con un piccolo bordino il laterale. Adesso che cosa voglio fare. Siccome qui sopra io ci andrò a mettere questa fusciacca. No? E il pezzo pure della sovrabbito. Intanto per prima cosa mi vado con un trapuntino a bloccare questo pezzo che rimane così. Perché quando poi andrò a mettere la fusciacca mi cadrà alla perfezione. Ok. Perciò adesso io vado a bloccare sul basso questo pezzetto di stoffa. Per non farlo muovere poi quando andiamo a stirarlo eccetera. Ok. Allora. Io ho preso il dietro o il davanti è uguale. Perché non vado a ritagliare sia il davanti che il dietro. per fare questi pannelli. No? Ne ritaglio uno. Adesso vediamo quello che è più grosso. E ne ritaglio uno. Perché? Vediamo un po'. Per non sprecare tutta la stoffa. Ok. Sono uguali. Allora. Prendo o il davanti o il di dietro di questa camminata. Inizia da notte. E lo pareggio. Così. Vedete questo svasa. E ce le faccio due pezzi. Due pezzi. Che le metterò. Uno davanti e uno dietro di questo abitino. Però stavo guardando ste cugne che sono state fatte. No. Ma comunque si possono fare. Le pareggio. Pareggio il tutto. Vabbè? La forbice. Ok. Prima lo taglio a metà. Così. Questi sono tessuti eccezionali. Anche la messi. Ma non sono assolutamente lisi. Allora. Poi vedete qua ci sta questo cugno. Io adesso vado a rimettere tutto in riga. Faccio così. E li metto tutti nella stessa grandezza. Ecco. Considerando la parte. Tolgo l'orlo. Tolgo tutto. Vedete? Vado dritto qui sullo sbiego. Via così. Ritaglio qui. Questi orli. Perché poi andrò a arrivare. Ecco. Io c'ho la sovrapparnanza. Che adesso devo rimettere bene bene. Perché qui non sono andata dritta. Sia per metterla davanti che sul dietro. Eh. Ancora non va dritta questo. Aspettate. Facciamo così. Ah. Ecco. Che l'ho tagliata. Com'è che se dice taglia taglia. Ce l'ho rimasto una pezzetta. Oh. Adesso va bene. Qui sopra. Io c'ho le maniche della camicia. Perciò adesso io con quest'altro pezzo. Lo metto da parte. Ci vado a fare un crembiulino. Di quelli semplici così. Così. Semplicissimi. Per come si usava una volta. Per servire a tavola. Tutto bianco. Quando cuciniamo. Le nostre belle cose. E. Ho ritagliato la manica. E ce la vado a mettere. E c'ho un crembiulino. Ci metto due lacci. Guardate. E c'ho un altro crembiulino. Con questa meravigliosa. Manica. Che fa da tasca. Ok. Questa la facciamo. Prossimamente. Eccola. La macchina. La manica da ritagliare. La vedete? Voi fate un conteggio. Fate una bella tasca profonda. Perché lo smerlo. Ci serve. Per facciamo 30 centimetri. Qua. Tagliamo qua. Voilà. E apriamo la manica. E abbiamo la tasca. Così. La pareggiamo tutta. Su. Una fretta. Vedete qua c'ha sti cugni. Questi mettiamo i cugni dappertutto. Perché le cose. Amavano le cose in super abbondanti. La manica doveva essere pomposa. Buttiamo. Quello è ottimo per pulivetri. I pezzetti. Sono eccezionali. Questi pulivetri. Non lasciano pelucchi. Non lasciano niente. Ok. Adesso noi con questa manica. Ci andiamo a fare la tasca. La tasca. Questa è un po' troppo profonda. L'accorciamo un po'. Andiamo un po'. Figurarsi se non si strappava questa. Io adesso la rifinisco tutta. E poi. Vado a fare delle pieghe in fondo. Per creare questa specie di. Vedete. C'è un ricammino così. Adesso rifi. Faccio l'orlino dappertutto. Su questo grembiulino. E poi ci rivediamo. Allora guardate. Io ho preparato la sovrapparnanza. Con la meravigliosa tasca. Tutta ricamata e intagliata. Poi qui. Noi ci andiamo a mettere un piccolo bottoncino. O quant'altro. Quello che più ci viene in mente. Allora. L'hanno fatti due pezzi. Spostiamo la macchinetta. Noi abbiamo il nostro abito qui. No? Meraviglioso. Aspettate un attimo. Lo apro così. Perché questo è il doppio. E' aperto ai noti. Allora. Sul davanti. Noi ci andiamo a piazzare. Questo meraviglioso. Questa tasca. Col pezzo sopra. Della camicia da notte. Di metà camicia da notte. Così. Lo vedete? Con. Questa mocella piegatura della cosa. Noi dopo l'andiamo a restirare. Allora. Ecco qui. Non la piazziamo qui sopra. Però ci rifacciamo sempre due piccoli. Due piccole pieghette. Perché non andiamo a far. Lo facciamo vedere il sotto dell'abito. Mi capite? Perciò. Prendo la metà. Lo piazzo sulla metà. Così. Metto una spilla. Questo proprio lo faccio piccolo. Mi capite? Comincio a pieghettarlo. Così. Vediamo un po'. E. Così. Piccolino. Come si deve vedere l'abito. Vogliamo fare ancora più piccolo? No. Perché dopo ci sta la tasca. Più piccola non la possiamo fare. Lo vediamo. Perciò una piega qui. Più piccola non la possiamo fare. Perché da quest'altro lato ci abbiamo messo il tascone. Tutto ricamato. Ok. Ok. Così. È così. Io ho preparato ragazze. Ho preparato due fascioni. Ho tagliato. Vedete? Ci ho fatto una specie di fiocco. Per poter nascondere questo vivo che noi abbiamo tagliato della camicia. la notte. Allora. Questo fascione è grande. Cioè è lungo. Un metro e settanta. Perché io ai lati ci andrò a fare un fiocco. Io sono grossa. Voi prendete le misure addosso a voi. Ok. Perciò piego a metà. Questo fascione è alto. Perché è in doppio. Io ho tagliato dieciotto centimetri di stoffa per un metro e settanta. Perché questo è bello. O lo fiocco di lato. O una nocca. Quello che volete. O un nodo grande. Perciò ho doppiato questi dieciotto centimetri. Vanno a finire a nove. Più un centimetro di bordo va a finire a otto. Eccoli qua. Di lato ci ho fatto questa specie di taglio obliquo del fiocco. Lo metto a metà. Così. Questa è la metà. E lo piazzo sulla mia bellissima parnanza. Prendo la metà. Ok. E ce lo gucio a macchina. Vedete? E nascondo tutto quello che io sono andata a lavorare. Faccio un trapunto qui. Un trapunto qui. Ecco. Il lato. Adesso ci metto le cose. Ok. Io questo lo faccio sia sul davanti che sul dietro. Vamos. Guardate. Che bellissima. Che bellissimo abito. Qua ci mettiamo il bottoncino. Così ci mettiamo le forbicine, il nostro centimetro. Qua la agganciamo. Adesso ve la mostro, ma la indosso. Eccola. Guardate. Ai lati. Questa è bella lunga, eh? Ve l'ho fatta lunga proprio per me. Facciamo un fioccone. E uno. E due. Ci abbiamo. Mannaggia, non si vede. Quest'altro. Sembrano quegli abiti del 1920. Ebbene, questo è quello. Perché mia nonna è morta nell'85. Ci aveva 93 anni. Fatevi un conto. Quanti anni, secoli è? Questa camicia da notte. Eccola. Sotto, se vi sembra lunga, la potete riprendere. Eh? Con un... Una piccola calamita. Con una rosa fatta con la stessa stoffa. Ok? Che dite? Ci vogliamo dipingere qualcosa? Qualche fiorellino qui sotto? Giusto per riprendere? Eh? Dai, ci proviamo. Andiamo. Ok. Ci voglio fare dei piccoli fiorellini. Perché questa stoffa, richiamando la stoffa, c'ha tutte margherite e rose. Allora, faccio le margherite. Intingo. Guardate. Il bianco. E il giallo. E faccio la margherita. Semplicemente così. Uno. Due. Tre. Quattro. Un po' di bianco. Cinque. Sei. Sette petali ci ho fatto. Centralmente la vado a sfumare con un po' di arancio. Come sta lì? Identico. Così, vedete? Ecco. Puliamo il pennello, riprendiamo il bianco e il giallo e rifacciamo un'altra margherita. E uno, e due, e tre. Un po' di bianco sulle punte, sempre a mano libera. Sette petali. Sette, otto, quello che vi pare. Centralmente lo scuriamo con l'arancio, così. Facciamo una margherita stilizzata. Ok? Ripuliamo il pennello. Bianco, giallo. E andiamo ad angolo. E andiamo ad angolo. Se facciamo qualche richiamo, ok? Ancora. Creiamo. Dei petali semplici, semplici. Ho visto che tanto siete bravissimi. Non so, non è che vi voglio fare dei complimenti, è la verità. Perché lo vedo sulle foto che postate delle amiche del baule della nonna. Perciò, lo posso dire, per cognizione di causa. Dai, andiamo. Poi ci passiamo col più veloce. Quando prendete il colore, vedete, fate come faccio io. Spingete giù, fate penetrare la stoffa. A parte questa è stata bagnata e rilavata, però. Spingete, spingete. Fate penetrare il colore. Questi sono gli acrilici all'acqua. Una volta asciugato, poi voi lo dovete Dovete passarci sopra con un ferro super bollente. Io lo faccio al dritto, mettendo sopra una carta e vedrete che il colore penetra ancora di più sotto. Ma dal lato, così. Andiamo. Veloce. Rilassiamo l'interno con l'arancio. Ma non il bocciolo, eh. Cioè il cuore. Il cuore lo facciamo celeste, perché qui c'è la celeste. Noi riprendiamo proprio la modalità del disegno della stoffa. Diamo un po' di colore a questo bianco, va bene? Rimarchiamo un po' di bianco sulle punte. Un po' di luce. Quella. Facciamo intorno alla tasca. Ok. E adesso facciamo il cuore con il celeste. Questo è un celeste non rischiamo un pochino. Facciamo un turchese col bianco. E vai. Il cuore, così. Una pallina. Semplice. E adesso qui c'è tutto. con il verde, il verde bosco, questo verde chiaro. Noi ci facciamo dei rami che uniscono, dei rami e delle foglie che uniscono. Così. creiamo. Creiamo. che uniscono. Noi ci facciamo un po' di rami e delle foglie che uniscono. di verde ce n'è tanto. Lo misceliamo magari con il bianco. Facciamo delle foglie impasterizzate. Bianco, giallo. Vai. bianco, giallo e verde. Vai. sto mischiando i colori, ok? Ok. di giallo qui. Adesso l'ultima cosa e poi basta perché il nero non lo uso. Qui non ci sono delle definizioni con il nero. Intorno all'azzurro io ci vado a fare questi dei piccoli pallini, così. come sta sulla mia stoffa. Quando vedete che c'è troppo colore in eccedenza, voi sfumatelo, ok? O il bianco magari andiamo a fare dei tocchi di luce. ecco, è là. E la camicia da notte di nonna Olga ha ripreso vita. e quando la indosso mi ricorderò di lei. ok, va bene? E' venuta una bellissima cosa, dai. Vi saluto. Ehm... Poi il prossimo tutorial faccio pure un riciclo. Ehm... che c'è una marea di avanzi, però devo, siccome non l'ho fatto mai, devo fare una cosa un po' particolare. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio, iscrivetevi, fatemi la pubblicità, e... che dire? Ci vediamo. Alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!